Barsamo SOS della linea Defense Evolution Begos, in pratico formato da 20 ml. E' un barsamo che ci viene in soccorso perché ci aiuta a allenire e a calmare i rossori ed eventuali irritazioni. Quindi è indicato a tutti i tipi di pelle, in particolar modo a quelle che si arrossano facilmente e che si irritano. E' un barsamo che può essere anche portato sempre con sé perché ha questa confezione molto comoda con pratico dosatore. Non dimenticate quindi di usarlo se volete un momento di sollievo.